I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato un 38enne gerrese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. A riguardo i carabinieri del nucleo radio mobile hanno fermato una Fiat Idea perché al suo interno i tre passeggeri hanno riconosciuto un uomo, un 38enne gerrese pregiudicato. Quest'ultimo, visibilmente invastidito per il controllo in atto, da subito ha manifestato un forte nevosismo e stato di agitazione, forse presagendo una imminente perquisizione personale. I carabinieri, insospettiti da quell'ingiustificato atteggiamento, hanno iniziato a verificare cosa avesse nell'auto e addosso, recuperando dalla tasca anteriore dei suoi pantaloni una mazzetta di denaro, in merito alla quale lui non ha saputo riferire né a quanto ammontasse l'importo esatto né tantomeno la provenienza. Poiché nel veicolo i militari hanno recuperato diversi mazzi di chiave, hanno deciso di indirizzare i controlli non solo presso la casa dove il 38enne risultava residente, ma anche presso altre abitazioni nella sua disponibilità e, nello specifico, presso un immobile situato in un quartiere satellite di quel comune. Nonostante la situazione fosse chiara, il 38enne ha continuato a non collaborare cercando, tra l'altro, di dirottare i militari presso un appattamento diverso. Soltanto la tenacia dei carabinieri, che hanno suonato al citofono in corrispondenza dei nomi di alcuni familiari e del malvivente, ha permesso di individuare l'appartamento giusto. Così, unitamente all'interessato, hanno provato ad inserire nella toppa tutte le chiavi trovate nella sua auto, fino a quando un ADS ha aperto la serratura. L'abitazione segreta, in cattive condizioni igienico-sanitarie, è stata perquisita dagli operatori dell'arma, che nella zona living, appoggiata sulla parete attrezzata, hanno trovato una busa in cellofana aperta, contenente 23 grammi di marijuana. La coperta più significativa, però, è stata fatta in camera da letto, dove è stata trovata una pistola Beretta calibro 7,65, con matricola, brasa e caricatore inserito con otto proiettili all'interno. Il denaro contante che l'uomo aveva in tasca più di 2.000 euro, lo stupefacente e anche l'arma sono stati sequestrati, mentre il 38enne è stato posto in arresto. Insediato il nuovo commissario straordinario dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Sensio. Nel pomeriggio di ieri, presso la direzione generale dell'ASP di Catania, il passaggio di consegne con il commissario straordinario uscende Maurizio Lanza, chiamato dal Governo regionale a dirigere l'X Bonino Puleio di Messina. Presenti il direttore amministrativo e il direttore sanitario Giuseppe Di Belle e Antonino Rapisarda. Vorrei ringraziare il Presidente della Regione, Renato Schifani, e il Governo regionale per avermi affidato questo prestigioso incarico, ha detto Laganga Sensio. Metto a disposizione della comunità e dell'azienda le mie competenze per affrontare tutte le sfide di cambiamento del sistema sanitario, obiettivo di questo Governo regionale. Nominato nel 2019 direttore generale del Policlinico di Messina, è stato il più giovane manager della sanità siciliana. Al Policlinico di Messina ha ricoperto anche le incariche di commissario straordinario e di direttore amministrativo, ottenendo importanti riconoscimenti. Dal 2020 è direttore generale di strutture sanitarie private, accreditate e convenzionate nel Lazio e in Lombardia. Secondo le disposizioni regionali, per ragione di continuità tecnico-gestionale, nell'emore del perfezionamento e la procedura di nomina del direttore generale, Rapisarda e Di Bella permangono nelle rispettive funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo. Vorrei ringraziare il Presidente della Regione Renato Schifani e il Governo regionale Tutto per avermi affidato questo prestigioso incarico. Metto a disposizione della comunità e dell'azienda le mie competenze per affrontare tutte le sfide di cambiamento del sistema sanitario obiettivo di questa regione e di questo Governo. Nella notte l'Ucraina ha colpito e affondato una nave da guerra russa a distanza nel Mar Nero, vicino alla Crimea occupata. Kiev, che riferisce di aver distrutto con diversi droni marini la corvetta missilistica Ivanovetz, ha dato la notizia pubblicando un video dell'attacco. Secondo i media ucraini, le operazioni russe di ricerca e salvataggio nell'aria sono state infruttuose. Tutti e 40 i membri dell'equipaggio sarebbero quindi morti. Il portavoce dell'intelligence ucraina ha dichiarato ai media nazionali che, nonostante le richieste di Kiev, Mosca si è finora rifiutata di consegnare i corpi dei 65 prigionieri di guerra ucraini che la Russia sostiene siano stati uccisi in un abbattimento aereo nei pressi di Belgorod, ad opera dell'Ucraina. Kiev, che non crede alla presenza dei soldati sull'aereo, ha detto di considerarli ancora vivi. Giovedì un attacco russo ha ucciso due operatori umanitari volontari, francesi, nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Il governatore della regione ha dichiarato su Telegram che nel raid con i droni, avvenuto nel pomeriggio sulla città di Berislav, sono stati feriti anche altri tre straniere e un cittadino ucraino. Al Consiglio europeo di Bruxelles i capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno concordato un fondo di assistenza finanziaria per l'Ucraina da 50 miliardi di euro e lo hanno fatto molto rapidamente, convincendo il primo ministro ungherese Viktor Orban a revocare il suo veto subito dopo l'inizio del vertice. L'Ucraina riceverà dunque 33 miliardi di prestiti e 17 a fondo perduto nei prossimi quattro anni. Come concessione all'Ungheria sono state inserite nelle conclusioni del vertice due clausole piuttosto vaghe, una discussione annuale tra i leader europei sull'utilizzo del fondo e, se necessario, una proposta di revisione del fondo stesso da parte della Commissione europea tra due anni. Nessuna contropartita invece per Orban sui fondi comunitari destinati all'Ungheria e al momento congelati dalla Commissione europea, come ha chiarito la presidente Ursula von der Leyen. Prima del vertice, gli altri governi europei avevano fatto capire a Orban che avrebbero concordato il finanziamento anche senza l'Ungheria, procedendo con una soluzione a 26 che pure avrebbe comportato procedure più lunghe con la ratifica dei parlamenti nazionali. Il fondo da 50 miliardi invece dovrà solo essere negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo, ma ci si attende un'approvazione rapida con il primo incontro fissato già lunedì 5 febbraio. Il governo di Kiev, che ha urgente bisogno di denaro, ringrazia. Gli Stati Uniti hanno deciso di rispondere con la forza all'uccisione dei tre soldati in Giordania avvenuta domenica scorsa, per cui sarebbero responsabili gruppi di ribelli armati legati all'Iran. Il presidente Joe Biden ha dunque dato il via libera per attaccare gli obiettivi iraniani in Siria e in Iraq, senza però specificare le modalità della rappresaglia. Pur continuando a sostenere Israele nella sua guerra contro Hamas, giovedì Washington ha annunciato le sanzioni contro quattro coloni israeliani italiani accusati di aver aggredito e intimidito i palestinesi. La Casa Bianca ha anche annunciato un nuovo decreto per sanzionare chi tra i coloni compie atti estremisti e violenti in Cisgiordania. Tra le sanzioni è previsto il congelamento dei beni e il divieto di visto. Intanto la situazione nella striscia di Gaza si fa sempre più critica, con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, che rischia la chiusura dopo l'annuncio dell'indagine su alcuni membri del personale accusati di aver collaborato con Hamas nella preparazione degli attacchi del 7 ottobre scorso. L'Agenzia è la principale fonte di sostegno per i palestinesi sfollati al momento. Nonostante l'appello dei principali sindacati a sbloccare le strade è arrivato dopo che il primo ministro Gabriele Attal ha annunciato un pacchetto di misure per risolvere la crisi, alcuni agricoltori in Francia hanno deciso di continuare a protestare. Il governo ha promesso sussidi aggiuntivi, il permesso di utilizzare pesticidi consentiti in altri paesi dell'Unione Europea e il divieto di importare alimenti da paesi extra-wey che utilizzano sostanze chimiche vietate nell'Unione. E quindi siamo in l'attente di una precisione scritta da parte del governo francese per capire lo che è stato detto, perché sembra di avere un po' di decalaggio tra la presa di parole del primo ministro e dei ministri. In realtà abbiamo chiesto di dare un'esplicazione, un'elemente supplémentare per comprare meglio ciò che è stato esprimato. I manifestanti parlano anche di contraddizioni tra le promesse di Attal e le dichiarazioni degli altri ministri. Per questo motivo la protesta è stata prorogata almeno fino a venerdì. In alcune zone, bloccate già da diversi giorni, gli agricoltori si sono scusati con gli automobilisti e hanno offerto loro cartoni di latte gratis. Promesse agli agricoltori sono arrivate anche da Bruxelles. I leader europei hanno incontrato i rappresentanti dei manifestanti arrivati in città da tutta l'Unione. Ursula von der Leyen ha sottolineato che gli agricoltori possono contare sul sostegno dell'Europa, anche se non è ancora chiaro se i politici siano riusciti a convincere gli agricoltori a calmarsi. Nonostante quanto detto e promesso, sempre più paesi si uniscono alle proteste degli agricoltori. Solo giovedì sono state intraprese azioni anche in Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. La vicenda di Laria Salis, detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di due estremisti di destra, è oramai un caso politico. Dopo aver parlato con la premier Giorgia Meloni, Viktor Orban ha precisato che nel sistema ungherese i giudici sono indipendenti e perciò non riconducibili al governo. Il premier ungherese ha però assicurato che interverrà perché la detenuta abbia un trattamento equo. In una lettera inviata lo scorso ottobre ai genitori, Salis ha raccontato di vivere la detenzione in condizioni degradanti e disumane. Gli avvocati della donna lavorano adesso per ottenere gli arresti domiciliari, prima Budapest e poi, se le negoziazioni attraverso il canale giudiziario, ma anche quello diplomatico, dovessero avere esito positivo, in Italia. In caso l'istanza venga rifiutata, i legali non escludono un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per la violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo. Il 21 dicembre scorso, la Facoltà di Lettere dell'Università Carlo di Praga ha subito un attacco senza precedenti da parte di un uomo armato che ha ucciso 14 persone, ne ha ferite altre 25 e poi si è suicidato. La sparatoria di massa ha scosso l'intera società e ha reso necessaria una profonda revisione delle misure di sicurezza. L'Ateneo, fondato quasi 660 anni fa, è uno dei primi e più stimati istituti di istruzione superiore d'Europa. Per questo motivo le misure di sicurezza devono essere flessibili in modo da poter essere adattate ai diversi dipartimenti. Ulteriore enfasi viene posta sulla corretta risposta del personale di crisi nella fase successiva a un possibile attacco o a un'emergenza. Una folla di giornalisti ha circondato l'attivista per il clima Greta Thunberg quando giovedì è arrivata in tribunale a Londra per comparire nel processo a suo carico per reati di ordine pubblico. Thunberg, 21 anni, è accusata di aver violato la legge per aver partecipato con altre centinaia di persone a una protesta contro una conferenza dell'industria petrolifera e del gas tenutasi in un hotel della capitale britannica lo scorso ottobre. La polizia aveva arrestato l'attivista svedese in base alla norma che consente alle autorità di imporre un limite al numero di persone che possono prendere parte a un'assemblea pubblica. Per il terzo anno consecutivo l'Italia è alle prese con un inverno particolarmente mite e secco. Gli invasi sono ai minimi e la penuria d'acqua sta compromettendo l'attività agricola e la sicurezza alimentare da nord a sud. I cambiamenti climatici così evidenti stanno accelerando la loro manifestazione forse più di quello che riusciremo a fare noi in termini di mitigazione, in termini di infrastrutturazione. Quindi questa forbice ancora troppo larga ci impone delle misure emergenziali. Nell'ombria centrale il sorvegliato speciale è il lago Trasimeno, il cui livello è di un metro sotto la media. Il mese di settembre, il mese di ottobre e il mese di dicembre abbiamo avuto valori in alcuni casi addirittura inferiori del 50% rispetto alla media accumulata. La tendenza, se non piove di più, è di rimanere ampiamente al di sotto della media stagionale e quindi chiaramente potremmo avere nel periodo estivo, nel periodo in cui emergeranno le criticità, dei problemi. Le temperature primaverili e la scarsità di pioggia stanno dunque mettendo in ginocchio gli agricoltori, in particolare nel sud d'Italia e nelle isole. La siccità è solo una delle conseguenze della crisi climatica di origine antropica che sta costringendo a valutare l'adozione di misure per una diversa gestione delle risorse idriche.